La Colombo 281 è l'unico progetto di Gio e Gianni Colombo per luce, unico progetto disegnato letteralmente a quattro mani e realizzato nel 1962, noto semplicemente come 281, soprannominato in seguito l'acrilica, richiamando il materiale principe e lo straordinario utilizzo che ne verrà fatto. La forma e l'importante spessore della curva che compone il 281 permette infatti, grazie alle proprietà di conduzione del materiale, che la luce contenuta all'interno della base risalga lungo il corpo trasparente arrivando a illuminarne la testa.